Il mondo scoprirai, molte cose imparerai Flippi! Oggi siamo al Las Vegas Mini Grand Prix! E guardate questi! Questi sono go-kart! Questo è un go-kart verde! Questo è un go-kart rosso! E questo è un go-kart blu! Sono emozionato! Guardate questi due go-kart! Sono dei miei due colori preferiti! Questo go-kart è di colore arancione! E questo go-kart, già! È di colore blu! Adesso è il momento che io vi mostri le parti di un go-kart! Oh, ehi! Guardate questo! Esatto! È un go-kart! Dunque, la prima cosa da sapere sui go-kart è che hanno tutti quattro ruote gommate! Vedete qui? Questa è una ruota gommata! Ed è molto piccola! Che carina! Questa è la prima ruota gommata! Questa è la seconda ruota gommata! Questa qui è la terza ruota gommata! E questa è l'ultima ruota gommata! È la quarta ruota gommata! Guardate questo! Già! Questo? Questo è il paraurti! Serve a tenerci al sicuro, così non ci si schianta! Schiantarsi è pericoloso! Ci si fa male! Bene! Guardate qui dietro! Questo? Già! Questo è l'alettone! Gli alettoni si mettono sui go-kart e sulle auto molto veloci! Perché creano una spinta verso il basso che aggiunge circa 3 milioni di cavalli di potenza! Wow! Che velocità! E guardate qui sotto! Questo è il motore del go-kart! C'è un filtro dell'aria, le candele, la marmitta, l'olio e tante altre cose! Beh, per sviluppare tutta la sua potenza, al motore serve carburante! Proprio come voi e io abbiamo bisogno di cibo! Il go-kart ha bisogno di mangiare! E proprio qui... Già! Proprio qui c'è il serbatoio! Wow! Penso che voi ed io dovremmo fare il pieno di carburante al go-kart! Indossiamo un guanto protettivo! Ecco fatto! Wow! Bene! Mettiamo il tubo qui! E versiamo! Wow! Wow! Va bene! Credo che ora sia bello pieno! Quindi rimettiamo il tappo! Sì, bello stretto! Poi giriamo l'interruttore! Questo qui! Poi... Non ci resta che tirare questa cordicella! Tre... Due... Uno... Un po' più forte! Ancora più forte stavolta! Sì! Ben fatto! Wow! Bene! Questo qui... È il sedile del go-kart! Dove siede il pilota! Esatto! Io! E voi! È dove ci siederemo oggi! Beh, mettiamoci comodi! Wow! Sì! Credo che mi piaccia! Ok, ma prima le cose importanti! Quando si guida un go-kart... Già! La sicurezza! Allacciamo la cintura! Proprio come in qualsiasi veicolo! Qualsiasi! Dobbiamo sempre allacciare le cinture! Bene! Ecco fatto! Uh! E qui sotto... Lo vedete? Questo è il freno! È quello che si schiaccia quando ci si vuole fermare! Wow! E questo pedale qui? Wow! Questo? Già! È l'acceleratore! Questo permette di andare avanti e indietro! E questo? È il volante! Wow! È questo che permette al go-kart di sterzare! Andiamo! E questo? pilotare un go-kart è divertente la cosa interessante dei go-kart è che ce ne sono di tanti tipi come quello su cui siamo appena andati e poi anche questi altri venite qui guardate questo go-kart è proprio piccolo che buffo lì ce n'è uno che possiamo guidare già questo go-kart verde sembra alla moda bene ora dobbiamo accenderlo ok vi ricordate bisogna mettersi un guanto e poi tirare la cordicella sì la cosa bella di questi go-kart piccoli è che chiunque più alto di 96 centimetri e mezzo può guidarli credetemi sono più alto di 96 e mezzo allora per prima cosa già la sicurezza dobbiamo allacciare la cintura bello stretto bene diamo gas si parte avete visto mi sono appena schiantato ma siccome i go-kart vanno solo in avanti bisogna usare questo attrezzo quando ci si schianta contro qualcosa perché manca la retromarcia vedete è come una sbarra di ferro con un gancio alla fine wow ok guardate questo si aggancia qui sotto e si tira wow è pesante ok sì ora possiamo riprendere a guidare andiamo wow è stato molto divertente guidare questo go-kart ma penso sia arrivato il momento di pilotare un go-kart grande guardate qui wow questo è un go-kart per i bambini grandi già è molto potente è un modello estremamente veloce ed è fabbricato in francia e guardate qui sotto già questo go-kart ha dei fanali a led e guardate il retro ha persino le luci dei freni le vedete e quando si preme il freno già si accendono le luci dei freni wow questo go-kart è così potente che per guidarlo bisogna avere più di 16 anni ed avere la patente di guida per fortuna io posso farlo questo vuol dire che possiamo accenderlo dunque giriamo l'interruttore e tiriamo la cordicella wow ha anche un suono più potente allora accomodiamoci sul sedile e allacciamo la cintura perché è molto potente wow sono un po' nervoso ma sarà sicuramente divertente ok siete pronti rapide si parte wowow wow questo go-kart è velocissimo wowow Whooo! è stato molto divertente scoprire il go kart con voi beh siamo arrivati alla fine della puntata ma se volete vederne altre tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome esatto, Blippi facciamo lo spelling insieme P-L-I-P-P-I Blippi ok, a presto, ciao ciao! Seguimi e vedrai, ti divertirai Blippi, Blippi il mondo scoprirai, molte cose imparerai Blippi!